Faestro, lei deve finire l'orchestrazione. Se ti addormenta, gli tagliate la cosa. Scusi, permesso, permesso! È un momento! Scusi, è lei che c'è i divieti della compagnia? No, è il mio segretario. Dov'è? La pilotai e poi mi fai vedere. Scusi, è un'altra cosa. Ogni oggetti? Compagnia. Compagnia? Compagnia! Io sono quello del corridoio, gli ha fatto vedere il segretario. Sì, me l'ha fatto vedere. Lei?